Atletica Atletica, Berlino, record su 600 per la Semenia, Asta a Kendricks, Giavellotto a Wetter Ultima tappa stagionale del circuito World Challenge Jaffa Berlino. La serata di Atletica offre riscontri di primo livello, con un primato del mondo come ciliegina sulla torta. Caster Semenia accorcia il suo raggio d'azione. Dopo l'esperienza sui 1500 a Londra, bronzo sulla distanza, si lancia nei 600 per cancellare il limite della Quirot. Abbatte il muro del 122, 12177, la sudafricana bussa la porta della storia. Non corre da sola, perché l'americana Wison si dimostra temibile non solo sugli 800. 12239, è seconda davanti alla Neon Saba. Il giamaicano forte copre i 100 in 991, stacca nettamente il turco Gulliev, campione mondiale dei 200. Al femminile, sigillo della Bartoletta. 1104, ritrova smalto nella velocità, ma manca l'appuntamento con il lungo, dove è solo sesta. La Saunders, 6.72, regola la Spanovic e la Proctor, quinta la Cliccina, non alla Strati, 6.31. La Asher Smith, 2241, prevale di tre centesimi sulla Talù nei 200, a seguire Jackson e Francis, specialiste del giro di pista. Splendida performance della Closter Alfen nei 1500. Talento in prepotente ascesa, 35.892 il suo riferimento. La Keniana Tanwi, 90.370, si iscrive alla lunga liste di atlete in grado di flirtare con la barriera dei nove minuti nei 3000 siepi, primato per la Krause, 91.185, mentre valeva domestica i 5000 in volata, 131.100. 1254 della Manning, nei 100 HS, solo quarta la connazionale Harper. Nei 110 HS, Merit, 1317, inchioda Allen. Kendricks si conferma padrone dell'asta. 5.86, alla sua ruota il polacco Lisek. Dopo la controprestazione di Zurigo, si rivede la Villenie, terzo con 5.71. Peso a Storl, 21.11, è Germania anche nel giavellotto, con Wetter che controlla Roller. 89.85 per il secondo di sempre nella specialità. Malachowski, infine, accende il disco, 67.18. . .